Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video, come state? In questi giorni sono stata a casa dei miei genitori per passare un po' il tempo, giusto per non stare sempre da sola a casa E guardate che cosa ho trovato In questo sacchettino ci sono tutte le letterine d'amore che mi avevano fatto, i miei spasimanti alle elementari Io non ci credo che ho conservato tutte queste cose Ma come è possibile, ma come mi è saltato in mente di conservare tutte queste letterine d'amore Comunque oggi ho intenzione di mostrarvele perché fa morire da ridere Cioè l'altro giorno mi sono messa a leggerle con mia mamma, ci siamo fatte di quelle risate Comunque sono tantissime, questa vabbè semplicissima Per Valentina ti amo Scritto con le penne con tutti i glitter, non so se anche voi le usavate a scuola Io ero piena di queste penne glitterate Poi vediamo qua Mamma E questo? Amore eterno Amore eterno, ma che dopo una settimana già gli piaceva l'altra mia compagna Però vabbè, dettagli Spero che non ci lasceremo, ti adoro Ti amo Ti amo, ti amo tantissimo Sei bellissima, sei troppo bella Ti amo, ti amo Io non ci credo Ma poi tra l'altro ne ho trovata una che fa morire da ridere In cui ho risposto pure io Solo che la mia risposta è stata un po' stronza Cioè non pensavo di essere così già da piccola Era un po' stronzettina eh Abbiamo questa Che poi ho scoperto Che non è che le scriveva tutte lui Ma se le faceva scrivere dalla sua compagna di classe Che era pure la mia amica, capito? Ma questo l'ho scoperto dopo anni Ok, sentite questa Ti amo Vale E senza di te non riesco neanche a scrivere Ma come? Ma se stai scrivendo? Vabbè Ti amo più di ogni altra cosa Per te farei tutto Ti amo tanto Non riesco a stare neanche un minuto Senza te Senza corretto Corretto Perché all'inizio aveva scritto senza Guardate La correzione Vorrei dedicarti una poesia Ma so che cento parole non basterebbero per descrivere quanto ti amo Dai che dolce però Poi non potete capire Ogni tanto ricevevo pure dei regalini Ma questi regalini ho scoperto che erano riciclati Cioè questo mio ex fidanzato degli elementari Gli chiedeva la sua compagna di classe E anzi la obbligava a regalarmi le cose E poi se le spacciava per sue Capito? Poi abbiamo Questo Capolavoro Non so chi me l'ha fatto questo Perché non è stato firmato Cioè pensate quanto tempo ci ha messo per fare questa letterina Con tutti questi ti amo E questa chicca Dai questa è carina no? Passiamo a Vale Io non ti dimenticherò mai Alle medie Spero di capitare in classe con te E poi Spero che non ci sarà uno più bello di me E non mi lascerai Ti amo Sei troppo bella Che ansia Madonna Vabbè fatto sa che alla fine Alle medie Eravamo in classi diverse Poi Questa è una super lettera Cioè Pure con i brillantini Guardate Vediamo se c'è il nome che lo copro No Ok Guardate Tutta sbrilluccicosa Sicuramente questo adesivo era della mia amica Io lo avrò rubato E c'è scritto Attenzione L'altro giorno Quando ti ho baciata È stato bellissimo Cioè io quindi già alle elementari baciavo a stampo Ti amo Vale Circondato da glitterini Qua aveva fatto lo sfondo con la polverina Non so se riuscite a vedere Vedete l'effetto della polverina Ieri ho cercato un regalo Però non sapevo Quindi ti ho regalato questa Ecco Mi aveva regalato una scarpetta Avete presente Le scarpette delle all star Che le avevano fatte a porta chiavi E proprio questa scarpetta Era della mia amica Io l'avevo rubata per regalarla a me Che carino Uh E questa è di un altro mio ex fidanzatino Sempre delle elementari Mi sa che ero fidanzata con lui Tipo o in seconda o in terza elementare Vale ti amo Per Vale Però qui non si è firmato Vabbè Poi Ah dai raga Qui aveva fatto pure la busta Con il foglio qua L'aveva scocciata E c'è scritto Ah Spero che il nostro amore Continui per sempre Ah ma è vuota Dentro non c'è niente Mi sa che l'ho già letta la letterina Questa letterina Me l'aveva fatta Lo stesso ragazzo Che mi ha fatto questo Infatti guardate che la calligrafia È È simile E c'è scritto Ti amo Questa qui è molto carina Si è anche impegnato Però un pochino mi si è rovinata Mi sa con Con dell'acqua E c'è scritto Angolo poetico Le rose sono rosse Il sole è giallo Il mare è blu Ma la più bella sei tu Poi Oltre all'angolo poetico Aveva fatto pure L'angolo barzelletta Giustamente Giusto per sdrammatizzare Un pochino E per non essere troppo dolce Quindi Angolo barzelletta Un elefante Dice ad un cammello Perché hai le tette sulla schiena? Parli te che hai il ca Sulla faccia Ma non fa a ridere Grazie mille Abbiamo Due letterine Le ultime due E queste qui le ho fatte io Quella che fa a ridere tantissimo Ve la lascio alla fine Questa invece È una cosa che non avevo mai dato Ma sapete perché? Perché poi si è fidanzato con la mia amica E quindi Io ci sono rimasta malissimo E questo bigliettino Me lo sono tenuta per me E c'è scritto Per Puntini Puntini Ti amo Mi rimarrai nel cuore Da Vale ti amo Io e te Tre metri sopra il cielo Allora Ti amo da morire Ogni sera non vedo l'ora che ti rivedo Quando sono con le mie amiche Parlo soprattutto di te E di quanto sei dolce Spero che alle medie Saremo in classe insieme Avete presente Che prima lui mi aveva detto Spero di essere in classe con te Ecco Era sempre lui Sei bellissimo Farei di tutto Per rimanere sempre con te Cavolo ma mi ero Mi ero pure impegnata Avevo messo pure Un adesivo I brillantini E poi si è fidanzato Giustamente Con la mia amica Siete pronti? Per l'ultima letterina Qua c'è la mia risposta E qui il bigliettino Che mi era arrivato Te Vale Che sei una stella caduta dal cielo Che mi hai completamente risvegliato Con la tua bellezza Io Ogni giorno che passa Ti amo sempre di più Ieri Mi sono divertito con te Dopo Quando me ne sono andato Ogni metro che facevo Con la bici Mi mancavi sempre di più E ieri Quando ti ho prestato la bici Ero contento Comunque guardate che quando siamo piccolini È tutto così bello Poi Io ti amo Non so come fartelo capire Per me sei la cosa più bella al mondo Io ti amo Ti prego Mettiti insieme a me La cosa più bella di tutte Quadratino Con scritto Si e quadratino Con scritto No Ciao Mi manchi da morire Sei bellissima E arriva il pezzo forte Con La mia parte Comunque scrivevo bene Ho iniziato Con Sembra che te E puntini Puntini State facendo una gara Perché erano in due Che mi amavano Capito C'era quell'altro che mi amava Poi c'era pure l'altro che mi voleva Ma io Cos'è che ho risposto Comunque È meglio se rimaniamo amici Anche a Puntini puntini Gli ho detto così Tu sei molto carino e simpatico Però è molto impegnativo Essere fidanzati Vai vale T A D B Ti amo di bene Ma quanto ero stronza Ma vi rendete conto? Cioè già ai tempi dicevo Che era impegnativo Essere fidanzati Comunque non potete capire La maggior parte di queste letterine Me le aveva scritte la stessa persona Solo che io All'inizio Non sapevo nemmeno Che mi ero fidanzata Con questo Perché Uno della mia classe Sempre all'alimentare Mi fa Eh vale Sai che Piaci a A quello lì Dell'altra classe Per te è carino E io gli faccio Sì sì Ma è carino Un bel ragazzo Però era fidanzato Con la mia amica Capito Tempo zero Vado in bagno Passo nel corridoio Passa pure la mia amica E mi fa il medio Ci sono io Che sono rimasta traumatizzata Ritorno in classe Vado dal mio amico Gli faccio Eh guarda che La mia amica Mi ha fatto il lito medio Perché? Eh perché non lo sai? E io Che cosa? Eh adesso sei fidanzata con E io Ma come sono fidanzata? Eh se tu hai detto Che era carino Io lo sono andata a dire Quindi adesso tu E lui siete fidanzati Cioè Vi rendete conto La superficialità Che avevamo a quell'età Ma assurdo E da lì Ho litigato con la mia amica Poi vabbè Naturalmente Ci siamo riappacificate Perché abbiamo capito Che non era proprio Il caso E con le letterine Raga ho finito Comunque Cioè volevo troppo Farvele vedere Perché A me fanno morire Da ridere Poi comunque È sempre bello Rivedere le cose Di quando Di quando si è piccoli Giusto per rispolverare Un po' La memoria Capito? Io Spero che questo video Vi sia piaciuto Sicuramente anche voi Anzi Sono sicura che anche voi Avete tenuto Certe cose Di quando andavate All'elementario Di quando eravate piccoli Perché Conservare le cose A me piace un sacco Diciamo che Odio buttare I miei ricordi Le cose di quando Ero piccolina Perché poi Quando sei grandi E quando Si vanno a rivedere Le cose Di tantissimi anni fa È sempre un piacere Capito? Quindi ragazzi Se vi è piaciuto questo video Cliccate like Adesso devo portare giù La fessacchiotta Fare i bisogni Vi mando un bacione Grande grande E Ciao Ciao